e ti saluto con la pace del signore buongiorno buona domenica oggi 21 di luglio 2024 siamo pronti ancora una volta per poter adorare il nostro re e in che modo lo adoriamo solamente così ascoltando la parola del signore che è quella che leggeremo immediatamente quindi io voglio ringraziare il dio perché ci ha dato la vita anche oggi e perché anche oggi siamo abbiamo dentro di noi questo desiderio di voler accostarci alla parola del signore che viene rivolta ai nostri cuori in questi termini marta disse signore io credo che tu sei il cristo il figlio di dio che doveva venire nel mondo vangelo di giovanni capitolo 11 versetto 27 ed ancora simon pietro rispose tu sei il cristo il figlio del dio vivente vangelo di matteo capitolo 16 versetto 16 il titolo di questo messaggio è questo il credo credo in un solo signore gesù cristo unigenito figlio di dio gesù cristo unigenito figlio di dio numerosi suoi contemporanei ne furono convinti vedendo la potenza soprannaturale che emanava da lui anche l'ufficiale romano a capo delle guardie che crocifissero gesù dovette ammetterlo veramente quest'uomo era figlio di dio nel nuovo testamento questa filiazione fra dio e gesù cristo ricorre per oltre 100 volte il figlio di dio è chiamato la parola che era dio e con dio la parola è diventata carne gesù nacque da donna maria che lo spirito santo aveva coperto dell'ombra sua e l'espressione figlio di dio mostra l'identità fra dio padre e dio gesù cristo il legame che li unisce la natura divina che hanno in comune l'amore che condividono come un padre con il figlio la bibbia afferma che dio vuole adottare come suoi figli coloro che credono in gesù ma proclama anche che gesù è il suo unico figlio perché egli soltanto può rivendicare una tale una tale relazione con dio gesù cristo il figlio di dio colui in cui abita corporealmente tutta la pienezza della deita è venuto dal cielo per rivelarci dio stesso io credo in gesù cristo che è morto per riconciliarmi con dio credo alle testimonianze che la bibbia riporta di coloro che lo hanno visto risorto dopo la sua crocifissione egli è risuscitato e è salito al cielo annunciando il suo prossimo ritorno io credo questo e riconosco in gesù il mio signore colui al quale sottometto la mia vita sapendo che un dio onnipotente è la persona perfetta per guidarmi e prendersi cura di me concludo con una domanda e se dovessi chiederti per te chi è gesù rifletti bene e risponde perché questa domanda più che la domanda la risposta che darei a questa domanda determinerà la tua eternità dio ci benedica grazie a tutti Grazie a tutti.